Che cosa voglio lasciare di me? Anche qui è una domanda curiosa, ma nello stesso tempo che richiede magari un'idea di quello che tu fai e del perché tu fai queste cose. Intanto, deve esserci questa premessa in fondo, nel senso che ho avuto la fortuna, il privilegio di entrare in questo mondo, di sapere in qualche modo utilizzare degli strumenti, di mettere in pratica delle tecniche, di realizzare delle immagini. È un sogno che ognuno magari si porta sin da bambino. E questo dialogo con... e questo raccontare o raccontarsi è il senso ultimo e unico di questo lavoro. Ma uno non racconta solo a se stesso, anzi, vuole raccontare agli altri la propria storia. Quello che io vorrei che rimanesse di me è il significato, come potremmo dire, sincero e profondo di queste storie, di queste immagini che in qualche modo traccio su una superficie e che mantengono la sincerità di questa mia, come potremmo dire, adesione a questo strumento, a questa superficie. quello, no? Poi la qualità del lavoro è determinata da tante cose, no? Dalla capacità che tu hai nel raccontare queste storie, non essere banalmente legato così a degli stereotipi, no? A questo, voglio dire... Uno poi deve anche avere, come termine dire, la consapevolezza dei propri limiti, usiamo anche questo termine. la consapevolezza delle proprie qualità, ma anche la consapevolezza dei propri limiti, no? Quindi, che cosa voleva lasciare Michelangelo di sé? I ragazzi miei, dopo quello che aveva fatto, ne aveva bene la consapevolezza di cosa poteva lasciare, no? No? Lasciava un segno indelebile e profondo, no? Nell'arte, ma anche nella società. Ne era ben consapevole, ecco, no? E quindi quando dico bisogna anche conoscere i propri limiti e sapere che, vabbè, insomma, qualche cosino, piccolo segno, ma diciamo così o no? Una piccola traccia di sé, uno spera proprio di lasciarla. Va bene. Grazie. 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 Grazie.